Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. E mai come questa sera, diciamo, la bandiera giapponese ci sta bene, mai come questa sera non era, cioè come dire, è d'obbligo tirare fuori questa autentica sciccheria vintage, ovvero sia la maglietta ufficiale del team Kawasaki Cross fine anni 70. Questa è una maglietta del 79, signori, portategli rispetto. Allora, perché? Perché? La citazione della bandiera giapponese, perché indosso la maglietta della Kawasaki? Semplice, signori, perché in questo video parleremo di uno dei migliori caccia, aerei da caccia costruiti dalla Kawasaki Heavy Industries durante la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di questo aereo, il Kawasaki K-I-100. La fonte è il numero 51 di dicembre 2006 di aerei nella storia. L'articolo, da cui trarò le fonti, è stato scritto da quel grande esperto che è Nico Sgarlato. Allora, il Kawasaki K-I-100 fu uno dei pochissimi aerei giapponesi a non avere un nome in codice americano, perché quando entrò in servizio nel tardo 1944, diciamo nel, scusate, verso i primi del 1945, scusate, oramai il destino del Giappone era segnato e non era così importante dare un nome ai caccia giapponesi. I giapponesi stessi non gli diedero un vero nome. Era chiamato soltanto Kawasaki K-I-100, eccolo qui, per l'aviazione dell'esercito, per l'aviazione dell'esercito giapponese. Questo è il 5 viste, eccolo qua, guardate che bello, eccolo qui, un aereo elegante, un aereo bello, un aereo aggressivo, un aereo che ha una storia molto, molto, molto particolare. Allora, come sapete, i giapponesi non avevano una grande esperienza di motori in linea. L'unico aereo da caccia a entrare in servizio, l'unico aereo da caccia giapponese a entrare in servizio durante la Seconda Guerra Mondiale fu il Kawasaki K-I-61 Hien de Totoni, aereo al quale sono particolarmente affezionato perché la mia vecchia, gloriosa e leggendaria motocicletta dei tempi in cui andavo, in cui potevo ancora andare in giro in moto era una Kawasaki GPZ 750 del 1983 che io avevo ribattezzato proprio Hien in onore di questo aereo qua, il Kawasaki K-I-61 detto Tony. Allora, il Tony era un aereo che montava la versione costruita su licenza del Daimler-Benz 600U, lo stesso motore del Messerschmitt 109, lo stesso motore dei nostri cacciamacchi del Mach-I 202, tant'è che gli americani lo chiamarono Tony proprio perché trovarono una certa somiglianza con il folgore, con il Mach-I 202. Oggettivamente la somiglianza c'è perché montando in pratica lo stesso motore certe soluzioni costruttive erano identiche oggettivamente e quindi la somiglianza c'è. Il Tony venne chiamato così dagli americani perché ricordava vagamente il nostro Mach-I 202, il folgore. In realtà era un aereo completamente diverso, in realtà era un aereo che ebbe un sacco di problemi. Perché? Perché i giapponesi, pur non avendo la minima esperienza di costruzione di motori in linea, si lanciarono senza dire niente ai tedeschi in una serie di modifiche al DB601. Come dire, fu un autentico disastro. Il fatto è questo qui, il motore Kawasaki HA40 che era montato sul Tony, ripeto, era un motore oggettivamente pessimo. Allora, ve la faccio molto breve. I motori Daimler-Benz, i motori della serie DB601, DB602, DB601, DB605, scusate, erano motori dall'architettura estremamente spinta, motori che erano costruiti in funzione dell'ottenere la maggior potenza possibile. Erano motori, ripeto, da un'architettura molto spinta, da un'architettura estremamente ricercata e raffinata. I giapponesi ci misero le mani di testa a loro e fecero un macello. Perché su un motore, ripeto, così delicato, così delicato, tra virgolette, dall'architettura così estrema, se vogliamo, dalla concezione così estrema come il DB601, se ci metti le mani devi avere un'idea di quello che fai. I giapponesi non ne fecero una dritta perché modificarono i circuiti di alimentazione, modificarono i circuiti di lubrificazione, modificarono, peggio che peggio, i circuiti di raffreddamento facendo un macello su riscaldamento, grippaggio dei cilindri, scusate, grippaggio dei pistolini ai cilindri e ritorni di fiamma, candele che si sporcavano, insomma, la serie dei problemi che ebbe il KI61 è pressoché infinita, soprattutto, ripeto, il KI61 ebbe sempre, sempre, sempre enormi problemi di surriscaldamento, soprattutto nei teatri tropicali, nel teatro, insomma, diciamo, sul Giappone, sull'Asia continentale, le cose andavano un pochino meglio, nel territorio giapponese, metropolitano, le cose andavano un pochino meglio, in Nuova Guinea, i Tony erano più il tempo che prendevano fuoco per aria o che si ritrovavano con due coppie di cilindri andati che non il tempo che potevano volare e combattere. Quando tutto andava bene, il Tony era un aero eccezionale, quando tutto andava bene, ma i pessimi motori HA-40, ahimè, lo castrarono malamente, diciamoci la verità. l'ingegner, la macchina, il K.I. 61, progettato dall'ingegner Takeo Doi, ahimè, fu una grossa, grossa, grossa delusione per i piloti dell'aviazione dell'esercito giapponese. Quindi, che cosa si decise? Si decise di rallentarne la costruzione, si tentò di rimediare agli errori fatti con le modifiche, insomma, si cercò di rimediare in un qualche modo ai disastri combinati con lo HA-40, ma non se ne venne mai a capo. Nel 1900, come dire, 1945 iniziarono come dire, queste prove insomma, per il per il K.I. 100. Eccone qua un altro esemplare visto di fronte, eccone qua altri due esemplari. Eccoli qui. Ripeto, Aeree nella storia è una fonte inesauribile di fotografie. Allora, dopo il disastro, diciamoci la verità, del Tony, lo staff dell'ingegner Takeo Doi si mise di buzzo buono a lavorare sopra la possibilità di sostituire il motore in linea con un motore radiale. Fu un lavoro titanico perché oggettivamente adattare un motore radiale ad una cellula concepita per il motore in linea non è sicuramente un lavoro semplice ma lavorando praticamente 24 ore al giorno gli ingegner Doi e i suoi tecnici riuscirono nell'impresa adattando adattando come dire adattando alla cellula del ki61 il radiale mitsubishi h1122 kinsei che in giapponese vuol dire stella dorata allora un motore da un motore affidabile un motore potente un motore che finalmente permise alla cellula del ki61 di dimostrare tutta la propria bonta Doi riuscì a come dire elaborare questa trasformazione studiando un Focke-Wulf 190 che era arrivato tramite i sommergibili in Zappone diciamo che tramite lo studio delle soluzioni aerodinamiche del Focke-Wulf 190 l'ingegner Doi riuscì ad adattare in maniera oserei dire in maniera oserei dire magnifica la cellula la cellula elegante aggressiva e filante del ki61 con il grosso motore radiale fu una trovata geniale fu una trovata intelligente perché l'aereo aveva caratteristiche assolutamente eccezionali che vi posso dire il ki100 era un aereo molto performante ripeto molto performante molto agile come tutti gli aerei giapponesi aveva eccezionali caratteristiche in volo manovrato virava stretto rispetto allo zero poteva picchiare bene perché non si disintegrava in volo quando picchiava in maniera troppo ripida contrariamente allo zero un aereo robusto un aereo ben armato una soluzione di ripiego sorprendentemente efficace sorprendentemente efficiente sorprendentemente studiata molto bene ripeto il motore era un radiale mitsubishi h112 2 kin6 14 cilindri a doppia stella raffreddato ad aria al decollo erogava 1500 cavalli e 1370 cavalli in maniera continuativa era aveva un'apertura all'aria di 12 metri era lungo 8 metri 92 alto 3 metri 75 con una superficie alare di 24 metri quadri pesava a vuoto 2500 chili il peso totale era di 3500 chili con un peso massimo al decollo di 3670 chili il carico alare era molto buono perché era di 175 chili per metro quadro con un rapporto peso potenza di 2,3 chilogrammi per cavallo che non è male oggettivamente le prestazioni erano di 570 km orari a 8000 metri di velocità massima velocità che scendeva a 510 km orari a livello del mare a quota 0 oggettivamente però non era per niente male ripeto saliva a 5000 metri in 6 minuti e ce ne metteva 20 per salire a 10.000 metri la tangenza pratica era di 11.000 metri il raggio d'azione di 630 km un'autonomia di 1400 e un'autonomia massima con serbatoi supplementari e con i leggendari accorgimenti dei piloti per smagrire al massimo la miscela arrivava a 2200 km l'armamento era piuttosto pesante perché si parlava di due cannoni HO5 tipo 1 da 20 mm con 120 o 200 colpi per arma e due mitraglietrici HO103 da 12.7 con 250 colpi per arma eventualmente il KI-100 OTSU poteva portare anche una bomba da 500 kg insomma un aereo il KI-100 che si rivelò a dir poco sorprendente perché molti storici dell'aviazione pensano che questa soluzione di ripiego sia stato il miglior caccia dell'aviazione dell'esercito giunse in servizio piuttosto tardi ed ebbe il battesimo del fuoco nella notte tra il 9 e il 10 marzo 1945 quando il KI-100 del capitano Masashi Sumita unitamente a 3 KI-61 del Sentai 18 tentò di intercettare senza successo i B-29 che attaccavano Tokyo allora il 7 aprile il primo KI-100 fu abbattuto in combattimento colpito dai cannoni di un B-29 allora i risultati in combattimento purtroppo furono pressoché irrilevanti a proposito del indipendentemente dalle buone caratteristiche dell'aereo perché in quel periodo quando il KI-100 entrò in servizio la superiorità aerea degli alleati era totale e assoluta Hellcat Corsair Mustang insomma lasciamo stare un disastro cioè erano poco più che tordi da impallinare nonostante le ottime qualità della macchina piloti poco addestrati poco carburante per volare insomma il Giappone di fine guerra era praticamente strozzato e anche un aereo eccellente come il KI-100 poteva fare poco o nulla e praticamente ebbe il KI-100 ebbe un unico momento di gloria il 25 luglio 1945 quando 18 di questi aerei 18 KI-100 del Sentai 244 si scontrarono con 20 F6F Hellcat che erano decollati dalla USS Bellow Wood e i 18 KI-100 dichiararono l'abbattimento di 10 aerei nemici con una sola perdita l'ultimo combattimento avvenne il 14 agosto quando il KI-100 del sergente maggiore Fumihiko Tamagake fu abbattuto nello scontro con alcuni P-51 allora la guerra comunque non finì subito per tutti i KI-100 in quanti alcuni aerei del Sentai 17 furono incamerati dall'aeronautica nazionalista cinese e furono impiegati ancora per alcuni mesi a consunzione tutti i KI-100 superstiti a parte mi pare due o tre finono tutti sotto la fiamma ossidica insomma un aereo un grande aereo in potenza un aereo giunto troppo tardi in servizio un aereo che pur essendo una soluzione arrangiata una soluzione di fortuna si rivelò oggettivamente un grande aereo perché volava bene aveva finalmente un motore affidabile le eccellenti caratteristiche di volo del suo progenitore del KI-61 finalmente erano supportate da un erano supportate da un motore da un motore all'altezza diciamoci la verità ripeto il KI-100 secondo alcuni storici dell'aviazione è probabilmente il miglior aereo da caccia dell'aviazione dell'esercito imperiale giapponese come tutti i pareri a proposito di queste cose si tratta di un parere opinabile di un parere discutibile ma è assolutamente indiscutibile che pur trattandosi di una soluzione di fortuna e credo che in questa visione insomma in questo particolare della parte superiore del KI-100 si veda pur essendo una soluzione di ripiego pur essendo un adattamento si rivelò un aereo veramente molto 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 buono e fu studiata diciamo la modifica fu studiata veramente molto bene sfruttando ripeto alcune soluzioni aerodinamiche del Focke-Wulf 190 l'ingegner Doi fece un eccellente lavoro il KI-100 era un grande aereo il KI-100 purtroppo non poteva fare più di tanto perché quando entrò in servizio nel marzo 1945 era ormai troppo tardi e non c'era più niente da fare la sconfitta del Giappone era solo questione di tempo fu usato in missioni kamikaze fu usato nei disperati giorni delle battaglie finali della seconda guerra mondiale ma non poteva combinare molto gli alleati oramai avevano una totale e assoluta supremazia aerea contro cui il pur valido KI-100 poco o nulla potevo gran bell'aereo aereo che volava dannatamente bene un aereo elegante un aereo bello un aereo molto ben studiato una conversione un adattamento fatto con razionalità e soprattutto con genialità ma un aereo che non poteva fare veramente più di tanto il Kawasaki KI-100 eccolo qua insomma signori come sempre aspetto i vostri commenti per per parlare di questo aereo come sempre vi do arrivederci al mio prossimo video come sempre ciao 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 ciao